Gentili telespettatori, buona giornata. Il prezzo del gas sale a 317 euro. Intanto il governo ha un piano di emergenza per contrastare un eventuale tagliattaglio delle forniture del gas proveniente dalla Russia. Allora oggi, 25 agosto, il gas è a 317 euro al megawatt ora, poi è rallentato a 308, ma si rivela e si rileva un aumento del 6% rispetto a ieri, in un giorno solo. Il governo italiano accelera su un nuovo piano di risparmio energetico e di taglio dei consumi di gas e di elettricità. E' quasi pronto e sarà sicuramente martedì o al massimo mercoledì, proprio un giorno il cui, il 31 agosto, Gazprom chiuderà il gasdotto Nord Stream. Fino al 2 settembre, con la motivazione della manutenzione, il colosso russo dell'energia smetterà di inviare metano all'Europa. Intanto i mercati energetici sono in fibrillazione. Il contratto future sul gas, negli scambi sul TTF di Amsterdam, è arrivato a toccare 315 euro più 8% per poi assestarsi su quota 310, un rialzo comunque vertiginoso sulla peggiore crisi di approvvigionamento degli ultimi decenni. L'impennata ha anche portato i prezzi dell'energia in tutto il continente a livelli mai visti prima, contribuendo all'aumento delle quotazioni anche di zinco, alluminio e fertilizzanti. Visto lo scenario peggiore che si sta prospettando, il governo Draghi sta anticipando lo scenario peggiore. Si prepara quindi a delle misure per contrastare. La prima parte del piano è quella annunciata a luglio, che prevede la temperatura massima negli edifici a 19 gradi e un'ora meno di accensione del riscaldamento. Il Ministero della Transizione Ecologica sta predisponendo una seconda parte che prevede risparmi più severi, con interventi minimi ma ad attuare subito senza aspettare l'inverno, quando i consumi sono maggiori. Pertanto dei tagli immediati. Sarà lo stesso Premier Draghi a varare le misure, mentre a luglio aveva detto che sarebbe stato il prossimo governo, mentre per il caro Energia il leader di azione Calenda ha esortato tutti i partiti a sostenere il piano del governo. Siamo in emergenza nazionale grazie a Matteo Salvini, Berlusconi e Conte. Il governo Draghi ha le mani legate, ma servono 10 miliardi per le imprese, dice Calenda, sganciamento rinnovabili dal gas e 30 miliardi sulle famiglie. Ora le forze politiche sospendano la campagna elettorale e si dichiarino pronte a supportare il piano del governo, un regassificatore incluso e un eventuale scostamento di bilancio, cioè ulteriore debito. La situazione è cambiata. Mosca ha cominciato a dare meno flussi di metano rispetto alle richieste. Ci sono diverse possibilità, diversi scenari. Il peggiore è che Mosca interrompa le forniture e così mancherebbe il 18-20% all'Italia. Per questo è l'apporto che la Russia si sta dando in questi giorni. Fortunatamente l'apporto del gas russo è sceso dal 40% al 18-20%. Ieri dal Tarvisio in Friuli, il punto d'ingresso del gas Gazprom, in arrivo dalla Russia, sono entrati 42 milioni di metri cubi, pari a un quinto del totale. 200 milioni di metri cubi. Arrivato nel nostro paese attraverso tutti i punti di accesso. Il taglio dei consumi è stato deciso dall'Unione Europea, che con il piano entrato in vigore il 1 agosto prevede un taglio volontario del 7% fino a fine marzo. Il 7% corrisponde a 3,9 miliardi di metri cubi. Un obiettivo che non raggiungibile abbassando di un grado i riscaldamenti. Nell'Unione Europea esiste anche un meccanismo di solidarietà tra i vari stati. Che ieri ha approvato a sua volta anche a Berlino il piano di risparmi. Lo ha ricordato più volte. La Germania più di tutti è preoccupata per lo scottop del gas russo, da cui dipende fortemente. Chiamato in causa è proprio il nostro paese che può contare su 5 gasdotti e ha forniture molto differenziate. Da noi i paesi del nord e dell'est, come Germania e Austria, si attendono la rinuncia ai flussi a loro vantaggio. E sul fronte della diversificazione, ieri l'amministratore delegato Dieni Descalzi ha incontrato a Roma i vertici della compagnia libica National Oil Company e ha espresso la volontà di lanciare una nuova fase di investimenti per aumentare la produzione del gas. Il gas, pensate, era a meno intorno ai 25 euro al megawatt ora. Oggi è a 290. Oltre 10 volte il suo prezzo. L'Italia dovrà tagliare il 7% di gas, inizialmente in maniera volontaria, poi potrebbe diventare anche obbligatorio. Gli stoccaggi sono all'80%. Nel 2021 si importava gas per il 40% dalla Russia, oggi è sceso al 18%, quindi uno sforzo è stato fatto e si è riusciti a trovare con accordi con altre aziende produttrici, altri paesi, di ridurre questa dipendenza dal 40% al 18%, quindi un 22% si è recuperato altrove. Intanto c'è anche un 25% che è il credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per le imprese gasivore ed energivore per il secondo trimestre. Naturalmente questo comporterà, vediamo se oggi riuscirò a farvi dei video dedicati solo a questo, ci sono 90.000 imprese italiane che sono a rischio di chiusura e già ci sono dei casi abbastanza di aziende note che hanno fermato la produzione o che hanno chiuso definitivamente. Vedremo quello che succederà, ormai siamo a ridosso di settembre, mancano pochi giorni, vedremo cosa succederà da oggi fino a dicembre, in questi mesi di inverno e di elezioni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti, ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete e poi questi video di Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete vengono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia, così se vi sono interessati i video li potete condividere con chi volete. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.